La chiesa di San Francesco è uno dei gioielli della città di Ferrara. Le sue origini risalgono al 1200, ma quella che vediamo oggi è frutto dell'opera di Biagiorossetti e risale alla metà del 1400. Oggi, a causa dei danni subiti con il terremoto del 2012, è in gran parte inagibile e presto i lavori di restauro per restituirla interamente alla comunità avranno inizio. Nel frattempo, però, torna al suo originale splendore un angolo di questa chiesa, che nel 2014 era stato seriamente danneggiato a seguito di un incendio. Si tratta della Cappella del Santissimo e della preziosa icona della Madonna delle Grazie, che risale al 1200. Dopo un restauro, durato mesi, volto soprattutto a ripulire le pareti e i dipinti anneriti dal fumo, la cappella può essere di nuovo ammirata, così come di nuovo tornerà al suo posto la Madonna delle Grazie. E per festeggiare questo momento, ma anche per far conoscere alla città il lavoro di recupero fatto, il rettore della Basilica di San Francesco, padre Orazio Bruno, assieme a padre Cesare Berardi e Maurizio Livari, hanno deciso di dare vita ad una settimana di eventi religiosi, ma anche artistico-culturali. La settimana inizia il 6 di maggio, con il primo intervento dell'architetto della sovrintendenza di Ferrara, che è un ambrogio, e assieme a un'altra studiosa, che ha fatto uno studio critico-storico dell'icona, la professoressa Valentina Lapierre. Poi vi sarà il 13 di maggio, sempre alle ore 16, vi sarà la conferenza dell'architetto Francesco Eleuteri, che è il coordinatore dei restauri delle chiese, dopo i terremoti in pratica. Ed ucciso in fondo, vi è appunto la conferenza di Sgarbi, Vittorio Sgarbi, appunto, il 14, però questa volta alle ore 21, sarà presente anche il nostro arcivesco, e lui, Vittorio Sgarbi, presenterà un pochino il rinascimento ferrarese, e quindi l'architetto della Basilica di San Francesco, che è il nostro Biagio Rossetti, e quindi farà, penso, un escursus un po' critico-storico della Basilica.